Presidente Solinars, un altro tassello in quello che guardano a Sardegna migliore, più forte, soprattutto nei confronti delle categorie disagiate. Che significato ha la presenza della Ministro Locatelli qui a Cagliari? Oggi il significato è importante perché ci consente di condividere importanti risultati raggiunti. La Regione Sardegna è un'avanguardia, siamo la Regione che stanzia maggiori risorse proprie per il progetto di vita, per dare un sostegno alle persone più fragili, abbiamo anche nell'ultima finanziaria dato una risposta in termini di contributi per l'abbattimento concreto delle barriere architettoniche a partire dalle scuole e siamo felici che tutto questo si inserisca in un percorso di maggiore consapevolezza rispetto all'esigenza di dare uguaglianza sostanziale ad ogni cittadino e quindi ai soggetti più fragili l'opportunità di potersi integrare nelle attività di tutti i giorni. Siamo contenti di questo ma non siamo ancora soddisfatti, c'è ancora tanto da fare e vogliamo contribuire con la riforma che il Governo sta portando avanti perché ci sia una società sempre più attenta a costruire il diritto alla felicità di tutti. Oltre al cuore cosa state mettendo in campo? Intanto anche il fatto di valorizzare la voce di tante persone con disabilità e delle loro famiglie perché troppo spesso mi accorgo che siamo un mondo un po' invisibile, ecco però non perché non siamo in tanti e non contiamo ma perché qualche volta qualcuno pensa di non essere coinvolto nella responsabilità di includere, di non lasciare indietro nessuno. Allora io credo che il lavoro di sinergia tra livello nazionale, livello regionale, livello locale e i singoli cittadini sia importante per dimostrare che invece siamo tanti a occuparci di questi temi che sono una risorsa preziosa per il nostro paese, ogni persona ha una risorsa preziosa sulla quale investire. Quindi questo diciamo è quello che mi guida nella riforma e in tutto quello che facciamo cioè veramente la convinzione che dobbiamo e possiamo contare di più, che non può il tema disabilità, il tema sociale essere in fondo alla lista. Deve essere il primo perché prima contano le persone e poi tutto il resto.